Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Questo video è dedicato a chi ama allenare i glutei e non solo ovviamente. Andiamo a parlare del lift thrust fatto con gli elastici, in questo caso loop band, quindi si può fare anche con le bande, con le classiche a fascia. Però io sfrutturo il loop band perché mi trovo molto bene, è comodo, è pratico, è economico, ecco a tutti i vantaggi del caso. Andiamo a vedere la tecnica di esecuzione corretta, cercare di capire i muscoli attivati, ovviamente i cosci, glutei, lombari e addominali sono tra i più importanti, però tenendo anche l'elastico in mano c'è un'attivazione molto importante anche per i decibili. Se questo video ti piace, metti sul pollicione e iscriviti subito a WKT Fitness TV. Andiamo a vederci insieme il tutorial. Per prima cosa sdraiati a terra, porta l'elastico sul bacino, stendi bene le braccia e tieni le due estremità. Inizia con queste piccole spinte col bacino, ovviamente anche qua il tempo è gestibile in base alle nostre esigenze perché possiamo farlo con un ritmo più accelerato, magari gestirlo con lentezza e fermarci in isometria quando il busto e le gambe sono perfettamente allineate. Cosa importante è sentire sempre al massimo l'attivazione dei glutei. Una bella pressione a terra con i talloni e il lavoro è fatto alla grande. Questo esercizio lo puoi inserire all'interno di un percorso di allenamento per le gambe, lo puoi fare in un circuito di allenamento e ovviamente è stravalido anche da inserire all'interno di una scheda Total Body. Insomma ecco, questo secondo me è un esercizio ottimo per i tuoi workout. Grazie mille per aver visto questo video. Ti ricordo che alla fine del video troverai tutti i nostri riferimenti social, anche Telegram, è aperto il gruppo Telegram, potrai tranquillamente iscriverti cliccando nei link in descrizione. C'è la pagina Facebook, il gruppo Facebook, il gruppo Telegram e quant'altro. Insomma cerchiamo di offrire informazioni su tutti i canali che reputi più e importanti per te ovviamente. Quindi non perdiamo l'occasione di essere sempre aggiornati ricordandoci sempre che abbiamo un blog che sta scoppiando di news interessanti per quello che riguarda l'alimentare femminile, alimentazione, benessere, lifestyle, attrezzi in palestra, attrezzi a casa, tutto, ginnastica passiva, elettrostimolazioni, tutto il blog sta realmente prendendo una bella vita. Quindi ecco, vi aspetto numerosi a leggere i nostri articoli. Ciao a tutti e buona giornata! Ciao a tutti!